Back in ETV Ciao, benvenuti ad una nuova puntata di Balconi TV Trento Io sono Jenny, sempre qui in diretta dalla terrazza del Muse Oggi a presentarsi sarà Candiru Ti lascio quindi subito al tuo nuovo pezzo terremoto Candiru, chitarra e voce Buon ascolto Fiorito al metto delle regole Sudato di meriti altrui Prami una vasca senza gli spigoli E un bagno di potetiche virtù Godendoti il momento Temendo che il castello di carta venga giù Sincronizzato all'attimo A cui tenderai Ogni falange per girare il terremoto E vibrargli contro Giochi con chi Ritieni fragile Persuaso di non lacerarti mai Godendoti il momento Temendo che il castello di carta venga giù Sincronizzato all'attimo A cui tenderai Ogni falange per sfiorare il terremoto E vibrargli contro Sveglierai Di sfidimento Anche il sospetto più remoto D'essere più grande di te Il voto di bruciare dentro un blues di armonica La fiera delle panità Oh 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 contro Svegnerai l'istruimento anche il sospetto più remoto da essere più grande di te Grandissimo Candiru Grazie mille Volevo sapere è vero che è uscito da poco il tuo nuovo CD? È verissimo si chiama Dei pianeti e delle cose e lo trovate a tutti i concerti Bene ero curiosa invece di sapere un'altra cosa come scrivi i tuoi testi? Allora raccolgo le piccole atmosfere da fiaba che ci compaiono ogni giorno e le traduco in parole strane nelle mie canzoni Molto bene grazie vi saluto Ci vediamo una nuova puntata di Balconi TV grazie al Muse e grazie all'area musica PPM Onlus Alla prossima